Nuovo passo di Eni nella sua espansione nelle energie rinnovabili. La società ha appena aggiornato a rialzo i target, con una capacità rinnovabile installata in costruzione in forte crescita, pari a 2 GW a fine anno. Un significativo aumento rispetto alla precedente previsione di circa 1 GW. Rivisti a rialzo anche i target di crescita per gli anni successivi, portati a 4 GW nel 2023, che diventeranno 5 nel 2024 per arrivare a 6 GW nel 2025. Risultati oltre le aspettative, resi possibili dalla crescita interna e da una serie di acquisizioni significative compiute dal gruppo nel giro di 4-5 mesi. L'ultima acquisizione, tramite la controllata Eni Gas e Luce, riguarda Damma Energy Group, una società titolare di una piattaforma per lo sviluppo di impianti fotovoltaici in Francia e in Spagna, con un portafoglio di progetti di 3 GW e impianti già in esercizio o in fase avanzata di costruzione nella stessa Francia, per circa 120 MW. Con questa acquisizione Eni entra nel mercato delle rinnovabili in Francia, dove ha già una base importante tra la clientela retail. L'ottica del gruppo, infatti, è quella di acquisizioni selettive, in particolare nei paesi in cui è presente già con una base clienti, così da poter sfruttare a pieno le sinergie. Quest'anno ha già portato a casa un'altra acquisizione importante, quella recente con Glamont Partners per il 100% di un portafoglio 13 campi eolici onshore in Italia, con una capacità complessiva di 315 MW, già in esercizio prevalentemente nel sud e in Abruzzo. Insieme ai 35 MW già in corso di costruzione in Puglia, Eni raggiunge i 350 MW di capacità eolica installata in Italia, divenendo uno dei principali operatori nel paese. E con questa operazione ha già raggiunto oltre 1,3 GW di capacità installata. E di febbraio scorso, invece, l'accordo con Ixelio per l'acquisizione di tre progetti fotovoltaici nel sud della Spagna. Tutto questo si muove di pari passo con un'altra iniziativa strategica del gruppo, la piena integrazione del business delle rinnovabili con quello retail, per creare un player unico che offre alla clientela energia totalmente pulita. Il gruppo, che ha completato l'integrazione, ha allo studio la valutazione di molteplici opzioni per la migliore valorizzazione di questa società nel corso del 2022, subordinatamente alle condizioni di mercato. Le opzioni comprendono o la quotazione in borsa tramite un'offerta pubblica iniziale, oppure la cessione o lo scambio di una quota di minoranza. Ad oggi Eni conta circa 10 milioni di clienti. La fusione delle attività retail e rinnovabili punta a massimizzarne la creazione di valore. La nuova società avrà l'obiettivo di sviluppare entro il 2025 una capacità di generazione elettrica da fonte rinnovabile superiori ai 6 gigawatt, energia che sarà offerta alla base clienti che Eni stima possa raggiungere gli oltre 11 milioni entro il 2025 per arrivare a 15 milioni nel 2030.